Questa è Kimberly, una meravigliosa nuvola di pelo. È una Maine Coon tricolore di circa 10 anni. È stata abbandonata in un giardino di una casa e si trovava da sola, senza cibo e senza acqua. Siamo riusciti a portarla presso di noi. Aveva una brutta congiuntivite. La congiuntivite porta a una grave infezione dell'occhio. Adesso è una meravigliosa gatta, non più solo pelo ma con tanta bella ciccia. Gli occhietti sono meravigliosi, è buonissima e cerca adozione. Se volete passare un inverno con un peloso che vi tiene caldo e compagnia, vi dà tanto amore. Kimberly vi aspetta. Hai visto come è bella la nostra Kimberly, amore? Chi sa mai che qualcuno decida di adottare te e la nostra Kimberly. E devo dire che la nostra bella gattona è davvero molto molto simpatica, molto serena, molto saggia. È un gatto di 10 anni, è un gatto dal quale sappiamo già cosa aspettarci. A parte il fatto, amici, che come avete visto è enorme, ma bella con questo bel pelo, questo bel muso. Io, gli animali, è vero, li amo tutti, voi potreste dirmi, ma tu ogni animale che ci mostri ci dici che è il più bello del mondo. Sì, è vero, ma ve lo dico pensandolo veramente. Kimberly sarà una compagna ideale per voi, per questo inverno. Pensatela sul vostro divano, non vi lascerà più posto perché lo occuperà tutta longitudinalmente. E poi quando vi avvicinerete vi farà così tante fusa, si struscerà sul vostro collo, vi verrà in braccio, metterà il musino sulla vostra spalla. Che voi ringrazierete me per avervi consigliato di adottarla perché la vostra vita con un gatto diventa molto molto più ricca. Sono animali che sanno dare tantissimo alla persona con la quale vivono, hanno un rapporto particolare, quasi paritetico, voglio dirvi, ma affascinante. Quindi, telefonate subito per adottare Kimberly al 348-8926-600 oppure, come al solito, scrivete a portamiacasa-dallapartadeglianimali.it E ora, prima.